Eccoci qui ragazzi, bentornati sulla serie di Dark Souls, oggi proseguiamo, abbiamo un boss da sconfiggere e tra l'altro volevo anche parlare un pochino dei personaggi che abbiamo incontrato fino adesso quindi mentre esploriamo questa bellissima area, il giardino radice oscura possiamo parlare un attimo hai bisogno di vita e vedere un po' di fare il punto insomma dei personaggi che abbiamo incontrato fino adesso e della trama fino adesso che per quanto pochina, comunque è molto interessante allora, qui attenzione c'è un oggetto, attenzione, imboscata, li vedete? guardate questi sono fatti apposta per saltarci addosso nel momento in cui prendiamo l'oggetto li vedete? oh, quella era la presa, se ci prendeva ci faceva male muschio rosso sangue qua hanno un momento di invulnerabilità ok mamma quante volte sono morta per aver preso questo oggetto che tra l'altro è un'anima ma sì, ok, ci sta però allora, questa è una nebbia che divide l'area allora come avete visto io non mi sto concentrando troppo sulla trama ho già spiegato il motivo segreto avanti guardate c'è un albero non si può neanche agganciare quest'albero in realtà non ho mai capito esattamente perché si può uccidere però vedete che è tipo vivo, muove le radici ci sbarra al passaggio uccidendolo tra l'altro ci dà anche le anime ci libera il passaggio adesso stiamo andando a recuperare un oggetto che ci serve assolutamente allora dicevo che la trama di Dark Souls per adesso è abbastanza nascosta guardate qui non si sa moltissimo se non quello che è stato detto nel video iniziale quello che ci ha detto qualche personaggio fiore verde è un oggetto consumabile che droppano questi cosi che non saprei definire e ci fa recuperare più velocemente la stamina direi che noi non ce l'abbiamo bisogno quindi ragazzi è subito chiaro che noi siamo un non morto quindi un essere umano maledetto viene detto all'inizio di Dark Souls che non tutti gli esseri umani sono maledetti non mi vorrei sbagliare ma viene detto che praticamente è una condizione che riguarda alcuni esseri umani io come potete capire da come parlo non me ne intendo tantissimo ok quindi ci basiamo solo per quello che è stato detto fino a adesso ok cerchiamo bene un po' di oggettini quindi gli esseri umani nascono con il segno oscuro che è un segno che determina la loro maledizione cosa succede? non possono morire sono non morti cosa significa esattamente? ogni volta che muoiono ritornano a un falò oh che brutto io non me lo ricordavo qui ci rimaniamo secchi sicuro aspetta un secondo dobbiamo sbarazzarci prima dei piccoletti guardate come fa male quello è un guerriero di pietra che si è alzato vediamo quanto gli facciamo nel caso lasciamo perdere perché questi qui sono belli duri vediamo eh sì ciao oh no ha fatto un inizantesimo molto brutto che ci impedisce di muoverci guardate non possiamo rotolare dobbiamo attendere che finisca il suo effetto da quello che ricordo non dovrebbe durare tantissimo ok aspettate un secondo giuro che cerco di farlo è un discorso però capite la gravità comunque questo è un guerriero di pietra quindi potete capire quanto sia resistente in realtà ahi ho sbagliato vabbè quindi ragazzi allora diciamo che la trama per adesso si è appunto incentrata anche per la descrizione degli oggetti che abbiamo avuto fino adesso su la condizione dei non morti quindi come funziona il non morto il non morto è un essere umano che è maledetto porta il segno scuro sul suo corpo che è questo simbolo tondo sono tutti fuori adesso quando muore ritorna in vita all'ultimo falò dove ha riposato accidenti difficile però parlare mentre si gioca dark e questa cosa però non è un ciclo infinito perché prima o poi questo essere umano diventerà vuoto quindi perderà completamente il senno noi lo vedremo succedere non a noi stessi ma a alcuni personaggi che abbiamo incontrato nella nostra avventura o meglio a tutti i personaggi poi dipende un po' da come vanno le storyline però quello è il destino dei non morti allora quali sono i personaggi che abbiamo incontrato per adesso in realtà non ne abbiamo incontrati tantissimi abbiamo incontrato il crestfallen che è quel soldato quel guerriero che abbiamo visto con l'armatura di maglia seduto al falò delle gambe del fuoco lui starà sempre lì quindi e questo già la dice lunga su di lui in realtà è un personaggio che un po' all'inizio fa un po' da tutorial quindi lui sta lì dice che non siamo i primi a essere passati da lì dobbiamo suonare due campane del risveglio perché questa è la nostra missione fa suonare tutto estremamente meccanico come se fosse una cosa che si è ripetuta già diverse volte in precedenza no? una particolarità di questo personaggio che è emerso dagli ultimi dialoghi che abbiamo fatto con lui è il fatto che lui in teoria dovrebbe far parte di tutto questo quindi lui dovrebbe essere come noi dovrebbe dire ok vado suono la prima campana del risveglio suono la seconda sono il non morto prescelto ho una missione in realtà però ha deciso di non farlo si è messo seduto lì e noi lo vedremo sempre lì ci racconterà qualcosa sui personaggi però questo sarà il suo ruolo aspettate ho sbagliato dobbiamo andare di qua poi un altro personaggio che abbiamo incontrato è Soler che subito suscita una grande simpatia lui è il personaggio a cui viene accostata la componente online per il fatto che fa parte del patto dei guerrieri del sole che è appunto un patto che si può utilizzare all'interno del gioco basato sulla cooperazione online perché ci sono dei patti che invece sono basati su il pvp quindi sull'uccidere gli altri giocatori raccogliere oggetti rilasciati da altri giocatori uccidendoli e quindi ci sono dei patti che possono essere considerati un pochino più malvagi molto più malvaggi alcuni invece il patto dei guerrieri del sole è proprio legale buono ok sono proprio paladini che aiutano gli altri giocatori in difficoltà e che lo fanno proprio per una questione di bontà d'animo e Soler è proprio uno di questi i guerrieri del sole come abbiamo visto sono i seguaci del primo genito di Lord Gwyn un personaggio che sarà centrale ci abbiamo fatto sarà davvero centrale in Dark Souls poi ne parleremo bene e il suo primo genito quindi questa la dice già lunga non aveva solo un figlio il suo primo genito sarebbe stato probabilmente l'erede eccolo qua abbiamo preso l'anello del lupo era proprio l'oggetto che dovevamo recuperare io non vado di qua però anzi sì e siamo di nuovo qua l'avevamo visto nello scorso episodio questo oggetto da che parte devo andare beh praticamente sulla descrizione dei medaglioni del sole abbiamo letto che i guerrieri del sole così si fanno chiamare sono i seguaci del primo genito di Gwyn un divinità visto che Lord Gwyn si potrebbe considerare un dio che era stato però per qualche motivo rinnegato quindi gli avevano tolto praticamente i poteri divini ed è stato completamente cancellato dagli annali quindi qualcosa di grave deve aver pur fatto questo ragazzotto per far infuriare così tanto il papà ha fatto qualcosa gli hanno tolto gli hanno tolto i poteri è sparito dalla storia però i suoi seguaci se lo ricordano ancora lo sanno praticamente seguendo nonostante tutto poi abbiamo incontrato oh qui dov'è che si andava attenzione alle spalle guardate questo è un serpente oh meno male che c'era la scritta non me lo ricordavo abbiamo raccolto la raccolto la partizan un'arma che forse non ho mai usato allora noi dobbiamo andare a fare la boss fight di là però per farla diventeremo umani quindi torniamo indietro e niente ragazzi quindi l'altro personaggio che abbiamo incontrato è Lothrek di Karim mentre Soler veniva da Astora Lothrek viene da Karim è un guerriero dorato che era rinchiuso in una cella nella chiesa dei non morti cosa in realtà un po' sospetta però noi l'abbiamo aiutato e nonostante abbia un temperamento direi palesemente un po' scontroso ci ha regalato un medaglione del sole come mai ci ha regalato un medaglione del sole che sia anche lui un guerriero del sole è troppo poco fanatico per essere un guerriero del sole anche lui perché generalmente i guerrieri del sole che sia Soler o i giocatori sono proprio fanatici che è inutile che faccio così perché io sono una di questi ovviamente un'altra personaggio che abbiamo incontrato con il quale però non abbiamo avuto l'occasione di parlare poverina è la guardiana del fuoco che è segregata sotto al falò perché lei deve come dice il nome stesso guardare deve proteggere il fuoco credo che abbia un legame praticamente indissolubile con la fiamma del falò quindi lei non si può spostare da lì e tra l'altro non poteva neanche parlare le hanno tagliato la lingua una cosa terribile in realtà allora lì ce n'è uno che dorme noi lo sconfiggiamo ragazzi oh ne fa due mi dimentico sempre bravo casta ok di personaggi ce ne saranno molti altri adesso non vorrei confondermi cioè non vorrei dimenticarmi qualcuno che abbiamo incontrato beh Oscar o Vastora abbiamo incontrato in realtà ai 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 allora Oscar o Vastora si è un personaggio che abbiamo incontrato anche lui adesso vi faccio vedere come si fa vedete noi dobbiamo diventare umani per fare il boss perché voglio farlo con l'evocazione del personaggio che viene messo a disposizione dal gioco però abbiamo zero umanità come vi dicevo le umanità sono oggetti consumabili quindi se noi ne usiamo uno non diventiamo umani ovviamente ma andiamo a alimentare il contatore e possiamo usarlo ovviamente se voi siete dei giocatori molto audaci siete convinti di non perdere mai le anime potreste ogni volta che trovate un'umanità la raccogliete potete metterla nel contatore così aumentate un po' le vostre difese e ve le tenete addosso però sappiate che se le perdete nessuno ve le restituisce ok e che purtroppo quei guerrieri vanno assolutamente uccisi perché facciamo così ne uccidiamo uno e poi evochiamo il nostro aiuto il personaggio che ci aiuta dicevo comunque che Oscar Ova Stora è il personaggio che ci ha dato le fiaschette Estus quindi quello che ci ha liberato dalla cella lui l'ha fatto apposta perché dice che nella sua famiglia si tramandava appunto questa cavolo le ho perse vabbè allora facciamo così che stupida abbiamo preso un bello oggettino in realtà questo qui questo qui è il set di solito di anelli con i quali si parte perché sono i due più potenti utilizzabili fin dall'inizio quello di Havel che ci permette di portare più peso e rimanendo comunque più leggeri quindi se vogliamo mantenere il Fastroll per esempio possiamo metterci più peso addosso senza andare in Midroll e poi c'è questo l'anello del lupo che aumenta l'equilibrio uno degli anelli speciali conferiti è 4 cavalieri di Gwyn già scopriamo qualcosa altro di interessante saranno molto importanti i 4 cavalieri di Gwyn li conosceremo tutti l'anello del lupo parteneva ad Artorias il camminatore degli abissi Artorias possedeva un'indomita volontà di ferro ed era invincibile con lo spadone credo che Artorias sia forse il personaggio preferito di tutti non lo so Artorias è proprio il personaggione di Dark Souls un po' tipo l'Itachi di Naruto bellissimo personaggio comunque credo che tutti abbiano visto un'immagine di Artorias da qualche parte ha un design molto molto bello e noi abbiamo trovato il suo anello quindi adesso sappiamo che era uno dei 4 cavalieri di Gwyn ve l'ho detto tutti avevano a che fare con Gwyn guardate che scema che sono cioè non sono diventata umana o comunque non c'è un segno di evocazione ma neanche cioè veramente non ci invade nessuno cioè ragazzi cosa è successo sapete cosa non abbiamo niente a distanza sono in queste situazioni che mi piacerebbe avere tipo un arco ok ora non sbagliamo come prima questo lo ignoriamo la evochiamo e poi saliamo ecco lui se la prende con lei ma cosa sta facendo non lo colpisce lasciala stare bravissima è una strega come vedete lei ci serve perché il nemico che dobbiamo affrontare che tra l'altro abbiamo già visto è una diciamo un nemico volante una farfalla ok l'abbiamo vista nello scorso episodio quindi il fatto che lei abbia la magia e possa uh questo lo evochiamo ragazzi così abbiamo un medaglione il fatto che lei possa colpirla a distanza è molto utile davvero facilita tantissimo la boss fight anche in questo caso comunque l'arena sarà un ponte eccolo lì vedete che fa il classico gesto spostati ok andiamo oh che meraviglia questa musica dov'è ah eccola qui si vabbè oddio al miracolo dai beatrice fa qualcosa guardate 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 adesso noi non possiamo fare niente perché non abbiamo modo di colpire la distanza ok l'unica cosa che possiamo fare è aspettare che lei si posi ecco ecco è morta si non abbiamo fatto niente ne abbiamo preso un sacco però ecco qua come al solito l'umanità per aver sconfitto il boss da questa parte si allora diciamo che questa è un boss semplicissimo cioè veramente molto molto fragile stiamo parlando di una farfalla ok una farfalla magica qual è il problema il problema è che lei si comporta in questo modo come avete visto scaglia della magia a distanza generalmente i giocatori a questo punto del gioco non hanno difese magiche sono vestiti più o meno come noi ok e diciamo che a meno che non hanno scelto un arco o hanno dei miracoli o delle magie come abbiamo visto Beatrice o il ragazzo che ci ha aiutato diciamo che può essere un problema affrontarla poi a un certo punto lei ovviamente si posa quindi quando si posa possiamo prenderla cazzottoni e le facciamo malissimo però può dare dei problemi per questo motivo guardate qua c'è un signore piegato chiave sotterranei torre tizzone divino e osso del ritorno attenzione perché è qua no vedete da dove noi veniamo cadere di qua e perdere le anime della farfalla è una cosa che succede sempre è meglio usare l'osso del ritorno allora come avete visto quello sembrava molto il fabbro no somigliavo al fabbro questo è un indizio che ci spiega che in realtà il tizzone che noi abbiamo trovato è un oggetto che dobbiamo consegnare proprio a lui al fabbro avanziamo di livello siamo andati qui a fare quest'area proprio per questo motivo perché volevamo il tizzone divino il tizzone divino ci permette di infondere le armi e far fare loro un danno divino ora siccome noi vogliamo fare una destrezza fede come build non andremo ad infondere la nostra uchigatana perché perché la faremo sì scalare anche con fede però generalmente quando un'arma si infonde il suo scaling di base si abbassa quindi se abbiamo un'arma che scala molto bene con destrezza infondendola con un elemento scalerà ancora con destrezza però un po' meno e in compenso farà anche del danno magico quindi direi che l'uchigatana noi la terremo così com'è senza darle un elemento perché non ci conviene ok sceglieremo invece un'arma da potenziare e far diventare divina donaria certo si può evolvere l'equipaggiamento vedete per esempio noi potremmo far diventare la nostra uchigatana più 5 perché deve essere almeno più 5 divina per farlo però ci serve la titanite verde grande un oggetto che ancora non abbiamo ragazzi io mi faccio l'arco che dite lo facciamo diventare più 4 e poi acquistiamo oggetto frecce grandi frecce standard 11 frecce però non è che ce ne facciamo qualcosa no scusate perché io senza avere un arco sinceramente mi sento davvero spiazzata l'arco non è un'arma buonissima in dark souls nel senso che non è sviata benissimo ok non è molto comodo da usare però anche solo per attirare i nemici farli avvicinare facendo notare la nostra attenzione o per esempio con la farfalla ci sarebbe venuto buono quindi mi sono un po' pentita in realtà di non averle di non averla comprata subito prima di andare dalla farfalla almeno avremmo potuto fare qualcosa com'è che si usava ah ok bellissimo e questo questo arco che noi abbiamo preso vedete che scala S con destrezza è ottimo ottimo perché noi abbiamo molta destrezza cioè la stiamo alzando infatti fa 50 più 110 come ho detto l'ultima volta adesso dovremo affrontare un'area che si trova praticamente dove abbiamo incontrato Soler la prima volta quindi dovremo tornare indietro tra l'altro io voglio andare un attimo in un posto vedere se è successo qualcosa perché non voglio perdermi gli eventi relativi ai personaggi quindi torneremo indietro al ponte della Viverna dove abbiamo incontrato Soler sapete quale sarebbe un'arma che mi piacerebbe tantissimo usare ma proprio tanto questa qua quella di questo signorotto la spada lato di balder mamma mia quanto è bella e sarebbe anche adatta al nostro personaggio il problema è che è un'arma che è ottenibile ovviamente quasi tutte le armi che vediamo in gioco sono ottenibili però non si raccoglie quindi non è un oggetto che verrà trovato a un certo punto del gioco possiamo dire corriamo andiamo a prenderla no perché bisogna farsela droppare dai balder e quindi bisogna avere molta fortuna altrimenti ce la sogniamo quell'arma per quanto riguarda i drop esiste appunto un parametro nascosto il drop rate quindi quanto probabilità ci sono di ottenere un oggetto che un oggetto ci venga rilasciato da un nemico e questo parametro si può alzare volontariamente indossando determinati capi di abbigliamento più o meno stravaganti che noi al momento non abbiamo comunque tutti tutto ciò che indossiamo aumenta o diminuisce la nostra possibilità di avere dei drop rari qua qua non c'è non c'è nessuno ancora quindi ne parleremo quando succederà qualcosa qua guardate io credo che possiamo arrivare oh cavolo cavolaccio ragazzi oh mamma allora ah Solaria è ancora qui non credo ci dica qualcosa di diverso dopo che abbiamo fatto la coppa o si hello there I will stay behind to gaze at the sun the sun is a wondrous body like a magnificent father if only I could be so grossly incandes allora non so cosa non so che cosa insomma non so cosa pensate voi però questa frase che lui ha detto che ha detto che il sole lui lo vuole guardare perché gli sembra un meraviglioso padre è stata quella che ai tempi mi fece triggerare malissimo perché non mi potete dire che c'è il primo genito di Lord Gwyn che è stato privato dei suoi poteri divini eccetera e poi Soler che sembra tipo il più sfigato del mondo che però sta qui con questo portamento fiero e mi dice che la luce del sole gli sembra un meraviglioso padre cioè capite che a me è già partita la fanfiction ok ma potentissima eccoci qua chiave dei sotterrani questa chiave qua ce l'ha data il demone toro se non sbaglio quindi noi potevamo già andare qua sotto però abbiamo scelto di fare un'altra strada se cadiamo giù di qui moriamo perché adesso si scende e sneghiterà contrario andiamo nei sotterranei guardate qua c'è una scala un cancelletto e non ci potrete mai credere mai non ci potrete mai credere ops ma guardate dove siamo oh chi è dove viene questo ovviamente ci riposiamo a questo punto conviene praticamente questo qui è una di quelle porte che fin dall'inizio del gioco abbiamo visto senza sapere insomma dove conducessero adesso lo sappiamo è un po' scomoda cioè l'hanno studiato proprio male perché uno rischia di morire malissimo ecco diverse volte tra l'altro solo per cadute idiote via di fuga avanti guardate qua siamo proprio sotto l'ordron ci sono i cani anche questi cos'è che fa? avvelenamento sbaglio no sanguinamento non so non lo so vedete qui è praticamente il posto dove vive la gente si capisce subito sono i quartieri bassi cioè proprio dove ci sono le abitazioni tra l'altro ci sono delle porte quindi conviene sempre esplorare chiave della residenza quella che aveva il venditore è dentro è rimasto chiuso dentro ok aspettate perché qua c'è un oggetto vedete avremmo potuto mancarlo e ci sono dentro le vesti di uno stregone allora avremmo potuto mancarlo non sarebbe stata una cosa gravissima da parte nostra ok sapete perché? perché noi non faremo i maghi quindi non è che ci interessa tanti guardate mamma mia quanto sono pericolosi questi tra l'altro noi siamo umani adesso ci invadono aspettate un secondo meno male che stanno lì a farsi ammazzare no 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 umanità gemelle proteggevano le umanità gemelle questo è solo un assaggio di quello che ci aspetta quest'area me la ricordo bella tosta allora lo stregone l'abbiamo liberato venem scusate se pronuncio male ma è famosa per la magia ok non c'è niente qua bugiardi oh c'è niente qua oh c'è niente qua guardateli sono male questi sono dei ladri dei furfanti tra l'altro anche loro con lo scudo tondo quindi si rischia di farsi fare perri critici hanno cercato di avvelenarci o di farci sanguinamento sono usciti da queste porte ecco perché c'era scritto così spezza corazza questo potrebbe essere adatta forse a noi tra l'altro erano vestiti ed equipaggiati esattamente come il ladro personaggio iniziale che si può scegliere guardate un'altra imboscata sono tre guardate che non è uno scherzo cioè sono veramente pericolosi questi poi ci aggiunge pure il cane un attimo è un attimo sembra che non fanno tanto danno ma se ci fanno è vieni qua cappuccio del ladro vuoto adesso guardiamo un po' l'equipaggiamento perché secondo me possiamo equipaggiarci un po' meglio proviamo qui c'è un boss noi proviamo a mettere il segno mentre continuiamo l'esplorazione magari qualcuno ci chiama questa è un'imboscata ve lo dico subito oh non me lo ricordavo che i personaggi stavano di fermi a farsi ammazzare ahia questo qua ci avrebbe fatto backstab era messo apposta ok guardate che belle che sono queste aree sono veramente molto realistiche e a qui dove dovremo proseguire dopo lo sconfiggimento del boss mi ricordano molto queste prime aree di Lordran molto Demon's Souls perché ha uno stile molto medievale classico qui dovrebbe sparire no non sparisce che mi ricorda davvero le atmosfere delle aree di alcune aree di Demon's Souls che meraviglia che è Demon's Souls quello si che andrebbe remasterizzato quello ne avrebbe davvero bisogno e sarebbe meraviglioso Demon's Souls insieme a Dark Souls 1 è il mio preferito dei Souls qui vedete che tutti ridono proprio per enfatizzare questo perché stanno un po' scendo di testa bene e vende coltelli da lancio avvelenati che vi assicuro che non sono niente male cioè ma ne compriamo non so dieci gli escrementi che generano tossine ed endemicon che questi sono molto buoni la resina carbonizzata che baffa la nostra arma rendendola di fuoco ne compriamo ben tre e basta e qua vi ricordate dove siamo? si riconosce molto bene l'aria con quel ratto che la prima volta che l'abbiamo visto siamo stati schifati ma ora quando lo vediamo è un po' come essere accolti quando si torna a casa dove stai? la musica rilassante guardate chi c'è aspettate un attimo ci manca solo che ammazzo lo stregone per errore è già arrivato compromettenti assolutamente no si mi interessa allora non fraintendetemi la magia in Dark Souls è stupenda è molto forte è interessante non è solo offensiva ok per esempio caduta controllata ci impedisce di avere danni da caduta o ce li riduce molto abbiamo dei buff abbiamo esca sonora che attira i nemici ci sono delle cose che sono davvero molto interessanti io adoro le build mago in Dark Souls avevo fatto un personaggio che era magia forza e la adoravo veramente però vabbè in questo caso non ci interessa perché non è il genere di run che stiamo ricercando allora brevemente possiamo scoprire qualcosa di più su Venem Venem V-Name non so come si pronuncia e i maghi leggendo la descrizione di due anelli unici che lui vende anello del drago rampante e anello del drago meditabondo allora quello del drago rampante è un anello speciale conferito soltanto agli stregoni più abili della scuola del drago di Venem l'anello è decorato con un drago immortale e aumenta la potenza delle stregonerie i draghi sono molto importanti in Dark Souls all'interno della trama l'abbiamo già visto dall'introduzione del video iniziale c'era una guerra che vedeva appunto come vittime proprio i draghi si vedeva anche questo drago senza scaglie che sarà un personaggio molto importante anche quello in Dark Souls che aveva tradito i suoi compagni diciamo e aveva aiutato nella sconfitta quindi i draghi non ci sono più sono estinti anche l'aria che abbiamo visto che si chiamava valle dei dragoni in realtà sarebbe un pochino un errore di traduzione quella perché appunto i draghi sono qualcosa che non esiste più è solamente un ricordo lontano mentre il termine corretto sarebbe Drake se non sbaglio che sarebbe Viverna questo qui aumenta la potenza delle stregonerie quindi se lo indossassimo le nostre stregonerie sarebbero molto più potenti e invece questo del drago meditabondo è un anello speciale uguale quindi sempre dei più prestanti della scuola di magia l'anello decorato con un drago dall'aria meditabondo avendo la durata delle stregonerie vedete la sua personalità si delinea abbastanza chiaramente secondo me il fatto che lui è seduto proprio un segno di resa ok vediamo se dice un attimo qualcosa a lui oh si preoccupa per noi no non ancora non vanno tanto d'accordo sarà un personaggio che è un personaggio ricorrente nella serie souls Patches certo che non va d'accordo proprio con nessuno non si sa se noi andremo d'accordo Patches è di istante ipatio che vuole ucciderlo posso capirlo Patches non l'abbiamo ancora incontrato lo incontreremo ora torniamo proprio dove eravamo prima dove abbiamo messo il segno davanti alla nebbia e proviamo a rimetterlo ragazzi vorrei provare a fare quel boss in coop secondo me potrebbe essere interessante quel boss come si capisce già dall'ingresso e dall'area in cui si trova ha un'arena che è veramente piccola e sovraffollata quindi andarci in coop potrebbe essere addirittura svantaggioso però noi confidiamo che ci sia quel giocatore che non lo sa allora niente ragazzi ho aspettato ho tolto il segno adesso vediamo se c'è il segno di qualcun altro di solito si metteva proprio qua il segno vabbè sapete che vi dico andiamo da soli noi non abbiamo bisogno di nessuno questo boss qua veramente cavolo ma stiamo scherzando madonna la musica aspettate devo uccidere i cani devo uccidere i cani aspettate lo vedete dovrebbe sentirlo sanguinamento non vedo niente ok ok ah ok oh mamma ragazzi io veramente cioè ero in panico non so se sei visto abbiamo tutta la chiave delle profondità ce l'abbiamo fatta allora ora posso parlare ce l'ho fatta oh allora c'era un demone capra no all'interno di questo piccolo cortiletto con due cani adesso voi avete visto giocare qualcuno che sapeva che cosa c'era oltre quella porta ma voi immaginatevi di entrare da questa porta ecco guardate cioè generalmente è quella alla fine che fanno le persone prima perché poi ci sono i cani i cani non sono particolarmente difficili da sconfiggere ma ti colpiscono tu rimani un attimo così e nel frattempo il demone capra ti finisce tra l'altro noi avevamo anche l'anello del lupo che ci dava equilibrio quindi non ci faceva sbilanciare completamente quando venivamo colpiti insomma eravamo particolarmente facilitati ci ha dato qualcosina di interessante che è la chiave delle profondità chiave che apre la porta delle profondità nel borgo dei non morti chi è stato esiliato dal borgo dei non morti trascorre una difficile esistenza nelle profondità un luogo umido privo di sole una buona metà delle profondità è composta da un pericoloso labirinto allagato e noi è proprio là che dobbiamo andare allora la chiave dei sotterranei è quella che abbiamo usato per arrivare qua ma la chiave dei sotterranei della torre i sotterranei della torre formano una cella di pietra si narra che un eroe è divenuto vuoto e rinchiuso da un caro amico per il suo stesso bene naturalmente aspettate praticamente questa chiave qui sarebbe stata quella che ci avrebbe fatto aprire la torre dove c'era Havel la roccia che noi abbiamo affrontato nello scorso episodio quindi questa qui la descrizione di questa chiave che a noi non è servita perché avevamo la chiave universale ci spiega che c'era un eroe dentro questa torre chiuso da un suo caro amico quindi questo suo caro amico era sicuramente qualcuno che aveva il potere di farlo chiudere lì ok noi abbiamo letto la descrizione dell'anello di Havel il vecchio commilitone di Lord Gwyn ma guarda un po' quindi facciamo uno più uno Lord Gwyn l'ha chiuso in questa in questo sotterraneo della torre perché era divenuto vuoto quindi lui era stato un grande eroe ok però era un pazzito allora piuttosto che ucciderlo chissà che l'ha messo dentro la torre per il suo bene naturalmente secondo me questa frase spiega tutto tutto di Gwyn per il suo bene naturalmente adesso la chiave invece che ci ha dato il signor capra è questa la chiave delle profondità ma noi potremmo andarci perché io so dove è il falò so come è strutturata l'area però in Dark Souls non si fa non si va si va prima ad utilizzare le ane ora torniamo al santuario delle gambe del fuoco comunque adesso che sto portando Dark Souls sul canale mi rendo conto di una cosa che sinceramente ho sempre sottovalutato tantissimo ovvero quanto sia difficile parlare della trama di Dark Souls il materiale è talmente tanto sparpagliato guardate solo la cosa che abbiamo appena detto di Avel abbiamo dovuto prendere due descrizioni due oggetti distinti e avere un pochino chiare alcune cose di trama vi rendete conto di quanto è difficile sbagliare alcuni dettagli e sperare delle scemate io piuttosto che sbagliare guardate vi dico la verità sto zitta se siete interessati insomma alla trama di Dark Souls oppure lo scoprite anche grazie a me perché ho visto che tante persone hanno detto di interessarsi ora che non hanno mai giocato a Dark Souls questa cosa è molto interessante vi consiglio assolutamente di andare da Sabaku perché là trovate tutto quello che volete sulla trama di Dark Souls ok prova corsa perché perché ah perché è difficile quindi suggeriscono di ma si è ludato stale cosa che siamo sotto terra ai ok spada leggera spezzata questo mi sa che non è che droppano chissà che cosa questi nemici qua credo che droppano solo la spada spezzata e le umanità questo affondo dell'uccikatana ci salva la vita ragazzi guardate che qui può sembrare un'area da niente ma vi assicuro che questi nemici con la fiaccola sono al male so che lo dico di tutti ma è così dopo tutto siamo sempre in Dark Souls poveretto ho sbagliato questo stava nascosto il segreto comunque è sempre andare piano vedete che se si prendono le aree con calma ce la si cava aspettate perché qua mi ricordo c'è un cane nell'acqua quello lì guardate no non è Silent Hill non abbiamo più frecce oh mamma aspettate un attimo quello è un macellaio avete visto ah perché le ho messe nelle secondarie ok vabbè ok le abbiamo ucciso il cane questo ovviamente se ne è accorto allora ragazzi a me sembra che lui si può fare backstab e anche perrare è un nemico che può mettere un po' d'ansia perché comunque fa paura ho sbagliato però non è troppo temibile dai niente drop ci può dare la sua arma tizzone grande il tizzone grande dovrebbe essere scritto nella descrizione è un oggetto chiave il tizzone richiesto per evolvere le armi grosso tizzone di alta qualità lavorato dai fabbri di Astora evoluzione delle armi standard più 5 per mettere in forzo fino a più 10 inoltre per evolvere armi più 5 ad armi grezze che è un tipo di infusione che aumenta il danno dell'arma senza però avere uno scaling quindi aumenta il danno di un'arma in modo fisso senza che le nostre caratteristiche lo influenzino allora visto che abbiamo recuperato il tizzone torniamo indietro perché questo tizzone andiamo a darlo al fabbro e direi che quindi sarà quella l'ultima cosa che faremo ma certo che te lo presto ok evolvi l'equipaggiamento serve titanite grande noi abbiamo solo un pezzo no due pezzi cicatana più 5 l'abbiamo evoluta possiamo farla diventare anche più 7 proprio basta va bene ragazzi direi che siamo messi bene adesso che abbiamo battuto il demone capra non so cosa esattamente è successo lui è ancora qui non non si sposta oddio ma io non lo sapevo forse non mi è mai successo cosa facciamo lo paghiamo dai sono tante 3200 anime però eh però io non so che cosa dice a wise choice a wise choice Maiden Thoreland and her followers recently arrived in this land but she became stranded deep below the catacombs her followers either fled or were reduced to hollows leaving Maiden Thoreland all alone not a bad tip a new bar cleric would be replete with humanity that tip I gave you I heard it from a fleeing old man that poor bastard all his robes and trinkets won't help oh my god oh my god you again what is it our future all right Allora, ci ha dato un consiglio Ci ha detto che c'è questa nobile piena di umanità Che è bloccata nelle catacombe Ma avete capito qual era il consiglio che ci ha dato? Cioè, ci ha detto che se la uccidiamo Otteniamo tanta umanità Era questo il consiglio? No, io non volevo parlare Prova calcio Le scritte ci consigliano di buttarlo di sotto Quante volte l'ho buttato di sotto? E non mi pento di una singola volta Ok, quindi qualcuno gli ha dato questa informazione ragazzi Sotto le catacombe è rimasta bloccata Ok, non l'abbiamo incontrata C'era la possibilità di vederla questa nobile di cui lui sta parlando Ma non l'abbiamo incontrata Probabilmente perché abbiamo battuto girandola troppo presto Quindi la sua storia ha saltato Però è una cosa normale in Dark Souls Nel prossimo episodio andremo giù nelle profondità Esploreremo quell'area e faremo il boss Sarà molto interessante Vediamo se me lo ricordo ancora bene E niente ragazzi A me sta piacendo tantissimo giocare all'area master di Dark Souls Lo trovo anche molto più fluido Quindi anche molto più facile A livello di gameplay Stupendo Davvero un gioco immortale Ci vediamo nel prossimo episodio Grazie per seguirmi come sempre La prossima Grazie per seguirmi come sempre 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 Grazie a tutti.